Questo è un decreto di espulsione emesso negli scorsi giorni dalla Prefettura di Varese contro un cittadino straniero, presenti regolarmente sul territorio nazionale. Ma la notizia non è questa. Il vero problema è che questo decreto va a colpire un cittadino che aveva ottenuto un permesso di soggiorno al suo ingresso in Italia. E il permesso di soggiorno, vediamo qua, era per ragioni di volontariato. Che cosa ci racconta questa storia? A parte i ricorsi annessi e connessi a cui lo stesso ha diritto, quindi prima che venga buttato fuori ne passerà parecchio di tempo. Che ci sono questure che hanno rilasciato addirittura permessi di soggiorno a cittadini stranieri senza un lavoro in Italia per volontariato. Così. Questo è un sistema fatto ad uso e consumo delle cooperative che si arricchiscono e che gestiscono i flussi dei clandestini e degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale facendosi dare, facendosi pagare dalle prefetture con convenzioni laute, somme che vengono tolte ai cittadini italiani. Questo è il sistema che va stroncato. Questo è un sistema di perbenismo, è un sistema allucinante, è un sistema di spreco, è un sistema falso che viene alimentato addirittura con documenti di volontariato, mescolando il vero volontariato con quello che è tutt'altro che volontariato, ma è semplicemente un approfittarsi delle nostre risorse.